Buongiorno a tutti, io sono Daniela Rizzi, sono direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di Mosca. Oggi proseguiamo la serie dei nostri incontri online dedicati a figure e personaggi della cultura letteraria italiana. Oggi dialoghiamo con Alessandro Giovanardi, buongiorno Alessandro, allievo del celebre bizantinista John Lindsay Hopi, ha fatto ricerche e pubblicato numerosi contributi che riguardano principalmente il linguaggio simbolico dell'arte bizantina e delle sue influenze sul Trecento riminese e adriatico e si è occupato anche di rinascimento malatestiano e ha studiato in particolare il rapporto tra arte e mistica nella pittura del Seicento. Dal 2006 a oggi ha curato numerose mostre di pittura antica e moderna e molte rassegne dedicate al rapporto tra arti figurative e pensiero filosofico religioso. È autore di un notevole numero di saggi e articoli di storia e critica d'arte ed estetica su riviste scientifiche italiane ed è autore, questo è il motivo per cui oggi conversiamo con lui, della prima e unica monografia su Vladimir Zabugin. Vladimir Zabugin è un personaggio che in questi due incontri cercheremo di illustrare al pubblico russo che lo conosce poco e adesso vedremo perché lo conosce poco. La monografia di Alessandro Giovanardi si intitola Pensare il confine, Vladimir Zabugin tra Oriente e Occidente ed è uscita a Roma nel 2021. Vladimir Zabugin è una straordinaria figura di intellettuale russo, questo può far sorgere nel nostro pubblico la domanda come mai in un ciclo di incontri con personaggi della cultura italiana parliamo di un autore russo, ma in realtà Zabugin è un russo italiano, ha passato in Italia metà della sua breve esistenza, morì infatti il 15 settembre del 1923 in circostanze tragiche che vedremo, quindi quest'anno ricorrono i cento anni dalla sua morte ed è in questa ricorrenza che gli dedichiamo questo excursus attraverso la sua opera. Il motivo per cui ce ne occupiamo come scaturirà dalla nostra conversazione è che Zabugin è una figura di estrema importanza per la cultura italiana, per la cultura letteraria, filologica, musicale italiana del primo ventennio del novecento. La nostra conversazione si divide in due puntate, in due parti, la prima è dedicata a Zabugin e l'Italia e la seconda sarà dedicata invece a Zabugin e la Russia. Allora Alessandro, Zabugin è uno studioso russo però estremamente importante per il primo novecento italiano, ha passato in Italia vent'anni dal 1903 all'anno della sua morte. In Italia è stato un po' dimenticato dopo la morte anche se recentemente è stato riscoperto da, oltre che dalla tua monografia, anche da altri studiosi che hanno ripubblicato le sue opere. Ecco perché questo interesse per Zabugin e che cosa rende la sua biografia intellettuale così importante sia per la cultura italiana sia per la cultura russa? Io direi innanzitutto che l'aspetto più chiaro, più evidente della straordinarietà della vita e dell'opera intellettuale di Zabugin riguarda proprio la sua estrema d'utilità linguistica per cui la gran parte della sua opera è stata pubblicata nella nostra lingua in italiano. Io non sono uno slavista, mi occupo di storia e critica d'arte, di storia del pensiero, avevo superato diciamo l'esame di laurea su un grande autore russo come Pavel Aleksandrovich Flerensky. Zabugin è diventato per la mia ricerca dottorale forse quasi una scelta inevitabile. Uno perché Zabugin è il primo a parlare in Italia di Pavel Flerensky, in secondo luogo proprio perché Zabugin padroneggia così bene la nostra lingua da rendere accessibile la stragrande quantità delle sue opere, dei suoi articoli, dei suoi libri e diventa in se stesso, nella sua vita, nella sua esistenza, questo ponte tra Oriente e Occidente, tra la Russia e l'Italia, proprio perché pur essendosi impadronito della nostra lingua e della nostra cultura, innamorato fin dai tempi dello studio a San Pietroburgo, innamorato della nostra nazione, però resta profondamente russo nel modo di sentire e nel modo di pensare. Di Zabugin si può notare che la maggior parte degli studiosi abbia apprezzato il suo lavoro di storico e filologo, gli studi su Giulio Pomponio Leto, su Vergilio nel Rinascimento italiano, gli studi su Dante e questo appunto fa parte della sua italianità. Dall'altra parte però Zabugin nelle riviste italiane presenta moltissimi intellettuali, pensatori, filosofi, ricercatori russi, devo dire in alcuni casi per la prima volta in Italia e opera anche, opera in modo da trovare diciamo un'ermeneutica peculiare, penso a Dostoievski, che sia appunto un'ermeneutica di pensiero, un'ermeneutica filosofica, non solo critica letteraria, insomma sull'opera di alcuni autori, quindi costruisce questo ponte russo nei confronti dell'Italia. Zabugin ortodosso d'origine si convertirà al cattolicesimo romano pur mantenendo il rito ortodosso russo e cercando anche in questo caso di costruire un ponte, un dialogo fra la chiesa latina, la chiesa di Roma e le chiese orientali, di Costantinopoli, quella di Mosca, che fossero sempre straordinariamente fitte e nella sua breve vita un personaggio prolifico e straordinario, fuori diciamo dall'ordinarietà. Ecco, proviamo a ripercorrere brevemente anche per fissare diciamo alcuni punti che sono quelli che che caratterizzano la sua formazione e la sua evoluzione successiva di studioso, lo ripetiamo, essenzialmente, principalmente di umanesimo e di rinascimento letterario, ma non solo letterario come come vedremo. Ecco, Zabugin si era formato a Pietroburgo dove era nato nel 1980 ed era stato, occorre ricordarlo, contemporaneamente allievo della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di San Pietroburgo e del Conservatorio di San Pietroburgo, quindi una doppia formazione di antichista, perché fin dall'inizio della sua carriera universitaria di studente, Zabugin si distinse per l'eccellente conoscenza delle lingue antiche, ma dall'altro lato anche una formazione musicale che è l'altro aspetto rilevante della sua produzione successiva. E all'Università di Pietroburgo ebbe dei maestri insigni, nomino alcuni, Georgi Forsten, Nikolai Karieev, Fadzie Isilinsky, che dicono molto, i cui nomi dicono molto al pubblico russo, e naturalmente non potè non incontrare Veselovski, anche se non ci sono testimonianze dirette che ne sia stato allievo. che cosa ha ricavato, partiamo dalla figura di Veselovski che forse è la più nota, la più importante, che cosa ha dato a Zabugin secondo te questa formazione ricevuta in questo contesto scientifico e direi più ampiamente intellettuale. Io credo che la formazione pietroburghese così alta, raffinata, si distingua in questo periodo soprattutto per l'apertura alla grande cultura europea. Veselovski, diciamo che se non è stato suo maestro diretto, resta una figura magistrale inaggirabile per il pensiero e per l'opera di Zabugin, è colui che meglio conobbe l'Italia. E vuol dire in qualche maniera l'Italia tra medioevo e rinascimento, l'Italia come fondamento e radice di una cultura universalmente sentita poi nei secoli successivi come fondante la cultura europea stessa, no? Da Dante in poi possiamo dire in questo senso parlando appunto dell'opera di Zabugin. E poi un interesse un po' diverso dalla storia letteraria, dalla formazione filologica italiana, cioè più aperta da altre discipline. Immagino di poter vedere in trasparenza nelle opere di Zabugin questi interessi per l'antropologia, la filosofia, la storia religiosa, l'importanza delle idee religiose e teologiche all'interno del pensiero e questa, mi permetto di dire, questa posizione se vogliamo più filosofica all'interno della ricerca filologica, cioè una vera e propria apertura al significato delle opere letterarie, oltre che semplicemente alla loro costruzione e il portato di pensiero dell'opera letteraria stessa. Ecco, io credo che la scuola pietroburghese abbia dato soprattutto a Zabugin questa caratura, queste qualità e forse anche proprio per questo motivo Zabugin si distingue dalla cultura italiana dell'epoca e ugualmente ne viene presto dimenticato dopo la sua morte. Ecco, a questo aspetto che mi pare estremamente interessante vorrei arrivare tra poco. Tu hai già fatto cenno al fatto che Zabugin era un uomo di fede ed era cresciuto nella chiesa ortodossa, poi quando arrivò a Roma dopo qualche anno si convertì al cattolicesimo di rito orientale che continuava però a praticare il rito bizantino e in questo, seguendo un percorso che chi prima, chi dopo avrebbero fatto anche altri grandi intellettuali, altre grandi figure della cultura russa di quel tempo, uno è Vladimir Salaviov e l'altro è Vyacheslav Ivanov che è giunto a Roma nel 24, poco dopo fece lo stesso percorso di fede. Ecco, qual era il senso e insistiamo su questo perché c'entra con la posizione di studioso e con la pratica filologica di Zabugin? Qual è il senso di questa conversione e dell'aver mantenuto comunque questo forte legame con la cultura religiosa bizantino-slava? C'è credo un senso, una tensione verso l'unità della cultura, intesa anche come cultura religiosa, che traspare moltissimo anche poi nei suoi studi successivi e anche negli scritti sulla cultura russa a cui arriveremo dopo. Cosa pensi? Beh, innanzitutto noto che in Zabugin la figura di Salaviov sia, anzi noto che la figura di Salaviov è sempre importantissima, preponderante, anche se non possiamo dire che Zabugin abbia mai dedicato un saggio intero sulla figura di questo grande studioso, pensatore, filosofo, critico. Ivanov gli fu ignoto, insomma, arriva in Italia proprio l'anno dopo in cui Zabugin è morto e quindi non si poterono mai incontrare, non ho la certezza che egli non abbia conosciuto Ivanov in altra maniera prima, insomma, era un grande lettore attento a tutto quello che della grande cultura poetica, filosofica, religiosa, filologica, usciva in Russia. Peccato anche che la biblioteca di Zabugin non sia stata ritrovata. Però detto questo, direi che Zabugin non ha nulla da rimproverare alla grande tradizione bizantina e bizantino-slava nel momento in cui si converte al cattolicesimo. tutt'altro, continuerà, come abbiamo detto, a mantenersi in questo rito, sia frequentando l'abbazia, diciamo, basiliana, greca, di Grotta Ferrata, quella fondata da San Nilo di Rossano, in un periodo ancora precedente allo scisma fra Roma e Costantinopoli, sia animando a Roma le realtà ecclesiastiche, direi appunto russo-cattoliche. Zabugin è nella sua essenza, nel suo modo di rapportarsi alla cultura europea, un uomo di relazione di unità. Lo vedremo poi in molti altri aspetti, il rapporto Italia-Russia, che è il rapporto Medioevo e Rinascimento. Anche con la tradizione cattolica è giunto per lui il momento di riunificare, riprendere un dialogo di riunificazione con le Chiese in una maniera però nuova. effettivamente. Zabugin si rende conto che il modo che nei secoli, dopo anche insomma il famoso concilio di Ferrara-Firenze, si è continuato da parte del cattolicesimo a tenere rapporti con la Chiesa orientale, è stato sempre quello di una latinizazione, cioè di un'inglobare realtà greche, bizantine, slave, dentro una struttura profondamente romana. Egli invece ricerca un cattolicesimo delle origini, cioè tutte le tradizioni orientali sono originariamente cattoliche, respirano nel cattolicesimo. Bisogna semplicemente operare dal punto di vista della reciproca considerazione questo rapporto d'origine. Tanto è vero che Zabugin, proprio con l'abbazia di Grotteferrata, anima questa rivista che possiamo dire, lo vede ispiratore, lo vede protagonista a Roma e l'Oriente, che è una rivista completamente nuova nel panorama italiano di quel tempo. Un rispetto diverso nei confronti del mondo greco, del mondo russo, del mondo slavo, degli usi, dei costumi, della liturgia. La barra dritta naturalmente dell'unità, ma l'apertura a tutto il pensiero, anche quello dei, come posso dire, dei fratelli separati non più scismatici, già questo secondo me è un concetto, una sfumatura un po' diversa, che in un periodo tra l'altro, almeno inizialmente dominato dal pontificato di Pio X e perciò dell'onda antimodernista, non fu facile. Perciò un'operazione coraggiosa di unità in cui il mondo latino e il mondo greco dovevano ritrovare il loro spazio e riprendere e dialogare, come nei primi mille anni della Chiesa indivisa. Un'utopia, una grande ambizione, in fin dei conti, non realizzata neanche ai nostri tempi, quindi possiamo immaginare il respiro profondo di Zabugini, che poi in queste cose, pur essendo religiosissimo, mantiene proprio un atteggiamento, in questo lo sento molto affine, fortemente, stabilmente laico, stabilmente aperto. Quindi un precursore, o meglio forse un protagonista d'eccezione di questa vocazione sintetica, chiamiamola così, della cultura, che aleggiava nell'aria, nel periodo in cui Zabugin nasce e cresce, aleggiava nell'aria della cultura russa. Adesso sarebbe lungo fare esempi di questa tensione verso la sintesi, il sincretismo che riguarda le arti, riguarda il pensiero, riguarda le tradizioni appunto anche filosofiche, ma diciamo in questa variante concentrata sulle questioni del cattolicesimo e dell'ortodossia, in Zabugin ha proprio un esempio, direi, del tutto assolutamente significativo. Ecco, questo dicevamo ha anche a che fare con il tipo dei suoi, della sua metodologia, dei suoi interessi scientifici. Abbiamo detto che il campo principale dei suoi studi è l'umanesimo e occorre ricordare che Zabugin era un finissimo conoscitore del materiale di prima mano che riguarda appunto la produzione letteraria di questa epoca, era un studioso di archivio, era un grande conoscitore della tradizione manoscritta e le sue principali pubblicazioni, adesso le nominiamo e poi le mostriamo anche, ne mostriamo anche le copertine, sono appunto frutto di questa meticolosa capillare indagine sulle fonti manoscritte del periodo umanistico in cui Zabugin cerca un filone di sviluppo, di pensiero che lo porta a conclusioni un po' distanti da quelle a cui erano giunti gli studi italiani di quel periodo. Ecco, quali sono le pubblicazioni principali di Zabugin negli ultimissimi anni della sua vita ne escono due fondamentali, una terza fondamentale opera esce postuma, le vuoi ricordare tu? Ah beh sì, sicuramente parliamo di Vergilio nel rinascimento italiano che sembra voler in qualche maniera completare l'opera di Comparetti su Vergilio nel medioevo, non cita molto Comparetti ma si comprende come Zabugin veda anche in questo caso il Vergilio rinascimentale come figlio del Vergilio medievale e quindi in una stretta connessione. Da Dante a Torquato Tasso vuol dire che Vergilio continua a influenzare la cultura italiana come l'aveva già fatto nel medioevo senza rotture, senza soluzioni di continuità. L'altra opera importante è proprio dedicata a Dante, noi abbiamo Dante e il suo oltretomba, sia in un come posso dire mai portato a termine ciclo di studi sull'iconografia dell'oltretomba dantesco per le edizioni vaticane, c'è solamente il primo interessantissimo fascicolo che ribalta un po' come potrei dire la metodologia degli storici dell'arte che si interessano di iconografia e di iconologia. Noi guardiamo alle opere d'arte e cerchiamo le fonti, le fonti bibliche, letterarie, religiose, i testi che possono aver ispirato una determinata, un determinato modo di rappresentare un episodio evangelico, un personaggio eccetera eccetera. Ecco il ribaltamento iconografico e iconologico in Zabugina viene proprio con Dante, cioè la Divina Commedia. A quali opere d'arte è stata ispirata? Cosa ha visto Dante? Questo è fondamentale ed è un'operazione secondo me importante. Viene praticata tuttora e nessuno però cita Zabugina, nessuno cita questo saggio seminale. Poi vi è il saggio pubblicato appunto per l'Arcadia con lo pseudonimo, con il nome arcadico di Filarite Prianeo sull'oltretomba medioevale classico dantesco nel Rinascimento. Cioè Dante come crogiolo di una visione del suo tempo che raccoglie tutta la tradizione medievale, in questo anche la tradizione classica degli autori, naturalmente Virgilio a cui poteva attingere, e tutto questo proiettato però negli oltretomba delle tradizioni poematiche, prosastiche del Rinascimento. Cioè una tradizione di visioni dell'aldilà, in cui Dante diventa in qualche maniera una sorta di crocicchio, un passaggio obbligato in cui gli autori che seguono oppure decidono di non seguire Dante e tengono comunque in considerazione. E qui Zabugin io lo trovo straordinario perché capace di andare a riprendere antichissime tradizioni sull'oltretomba, sull'aldilà. Devo dire che questi scritti così profondamente italiani, in realtà per la metodologia, l'attenzione appunto a lei, a lei con l'icona, l'immagine, sia per appunto questa attenzione peculiare per l'oltretomba, in cui tra l'altro Zabugin anche nei monumenti italiani visitati da Dante sottolinea sempre gli aspetti più vicini, più similari alla grande iconografia pasquale ortodossa, lui poteva appunto aver ben conosciuto in Russia e anche in Italia, ecco Zabugin è profondamente russo, è profondamente russo, anzi al tempo quando non conoscevo ancora, diciamo che studio Zabugin da moltissimo tempo, non conoscevo ancora i suoi interessi per i pensatori russi, cui poi parleremo, mi chiedevo davvero come mai queste assonanze che potevo scorgere qua e là con Fleriensky, con altri autori, e fossero così presenti in questo studioso così aderente alla filologia dei testi, alle fonti. Zabugin da questo punto di vista resta un maestro, non credo di esagerare, apre una pista. Poi le fonti ora sono state esplicitate in maniera più sottile, ma egli è un grande iniziatore. E mi chiedo quanti studiosi italiani, pur non citandolo, l'abbiano preso in considerazione. Senti, parliamo un momento della storia del rinascimento cristiano in Italia. Intanto volevo dire che, e questo riguarda anche questo libro in particolare, gli scritti di Zabugin hanno sofferto un po' di una certa non completezza, nel senso che il modo di lavorare di Zabugin, che si basava su questa conoscenza capillare delle fonti archivistiche, però qualche volta, forse proprio per l'urgenza, diciamo, di mettere sulla carta il frutto dei suoi studi, ha trascurato un po' gli aspetti di precisione per quanto riguarda i riferimenti, le note che rimandavano a precisi testi, la collocazione di questi testi, per cui l'impressione di una certa cauticità, di una certa non sistematizzazione, ecco, dei suoi scritti, è forse una cosa che gli ha nuociuto, che ha nuociuto alla sua fama. E in particolare questo libro, Storia del Rinascimento Cristiano in Italia, che è uscito postumo nel 1924, è stato editato senza un apparato critico che lo rendesse veramente fruibile dal mondo scientifico. Ma, diciamo, è tipico anche di Zabugin, forse quella che potremmo chiamare una nonchalance, una trascuratezza formale che riguarda appunto questi aspetti dell'apparato, non certo della lingua, per privilegiare invece uno slancio interpretativo, l'orientamento del materiale verso la dimostrazione di una sua tesi, che è questa struttura comunque rende questo libro di straordinario interesse anche oggi. Ecco, qual è il motivo principale che Zabugin, che rende questo libro di Zabugin comunque tuttora interessante? Un libro, a mio avviso, nello stesso tempo straordinario e difficile, non per la lettura, lo potrebbe leggere davvero chiunque. Il problema appunto è quello di trovarsi tra le mani un testo uscito postumo, quindi senza note. Anche il lavoro su Virgilio è completato, come posso dire, in una maniera in cui troviamo di mezzo la fine tragica di Zabugin, quindi tutte le sue opere andrebbero in qualche maniera riviste. Immaginiamoci solamente il fatto che il vecchio libro su Giulio Compognoletto, poi Zabugin lo riscrive in maniera completamente nuova in russo e in italiano non è mai stato edito, anche se so che ne esiste una traduzione privata presso gli eredi di Augusto Campana, però ecco, dobbiamo immaginare uno studioso di 40 anni che ancora prende le misure, insomma, con il suo tempo e la sua opera. La storia del rinascimento cristiano in Italia esce senza note proprio perché Zabugin è morto e quindi questa mancanza di note si fa sentire ed è, si fa sentire per lo studioso italiano, ma se noi andiamo al di là di un certo, come posso dire, di un certo clima, se vogliamo, un po' apologetico, per cui Zabugin tiene a difendere l'anima cristiana e l'anima cattolica, l'anima credente, l'anima pia, devolta della cultura rinascimentale, in controtendenza, insomma, con la lettura burcardiana, con la lettura che andava, come posso dire, di massima, era di gran voga nell'Italia degli anni venti. Ecco, Zabugin cerca di comprendere la genesi di una cultura nuova senza dimenticare le radici antiche. Il concetto ampio di rinascimento, per cui il rinascimento in Oriente e in Occidente, lui dice, ce ne sono stati tantissimi, diversi, immaginiamo il rinascimento carolingio in Occidente, il rinascimento dei comneni o successivamente dei paleologi, prima ancora il rinascimento dei macedoni in Oriente, quindi in alcune epoche dell'età culturale bizantina il recupero dei classici, il recupero delle forme classiche dell'armonia, e Zabugin dice non vede il motivo per cui la grande, l'ultima grande esplosione di questo rinascimento non debba essere collegato alle sue fonti spirituali. È un libro che risulta anche oggi non facilmente accettabile, ecco, non facilmente accettabile, perché la tesi di fondo è straordinariamente forte, cioè l'aspetto della simbolica religiosa, del contenuto mistico, dell'aspetto appunto di preghiere, di raccoglimento. Zabugin fa anche dei bellissimi paragoni con le esperienze spirituali della fede orientale, della fede ortodossa, della chiesa orientale. È fondamentale per comprendere un'opera d'arte, fondamentale per comprendere tutto da Dante a Toccato Tasso, per ripetere il sottotitolo del Virgilio. Insomma, non c'è possibilità alcuna di studiare il rinascimento senza fare riferimento al cristianesimo e senza legare il rinascimento al medioevo. Zabugin è un uomo di ponti, è un uomo che cerca le filiazioni e che vede all'improvviso riemergere in testi rinascimentali elementi così squisitamente patristici, medievali, e lo fa con una passione incredibile. Effettivamente il rinascimento fa anche un secolo di grande riscoperta, ed è ovvio con la lingua greca, anche dei padri e dei teologi greci, dei testi bizantini, di una cultura cristiano orientale. Non fu solamente un'epoca dedicata allo studio degli autori che noi porozamente chiamiamo pagani e che dovremmo invece semplicemente definire classici. Cosa si potrebbe dire di questo atteggiamento di Zabugin di quest'opera, che è un po', come posso dire, il testo finale della vita di un uomo, chiusasi tragicamente e improvvisamente, ma che mostra la coerenza di tutto il suo, dell'intero svolgersi della sua ricerca intellettuale. Ecco, l'altro aspetto che mi pare molto significativo dell'opera di Zabugin in termini di novità metodologica è anche questa sua insistenza, molto spesso ritorna su questo argomento nei suoi scritti, questa sua insistenza sul fatto che una cultura va letta, anche se si parte da fonti letterari, comunque nel suo complesso, guardando alle arti figurative, alla musica, a tutte le manifestazioni artistiche, come si direbbe oggi a 360 gradi, tutte le manifestazioni artistiche che caratterizzano una cultura. Quindi non si possono studiare, secondo Zabugin, le fonti letterarie senza rivolgersi anche ad altre forme d'arte, ad altre espressioni della cultura, in un certo senso anticipando questa interdisciplinarietà che oggi va così di moda e che forse allora nella cultura italiana era un altro elemento un po' dissonante con la nostra tradizione, prevede una maggiore forse differenziazione tra i vari ambiti disciplinari, tra le varie metodologie e diciamo in quell'epoca non troppo frequenti erano gli esempi di una ampiezza di di vedute di questo genere, che invece era molto familiare alla cultura russa dalla quale Zabugin probabilmente l'aveva assimilata. Ecco, prima di concludere con un cenno alla tragica morte di Zabugin e quindi alla conclusione del suo periodo italiano, ti volevo chiedere, nel mondo accademico italiano di quell'epoca, di cui Zabugin faceva parte perché dal 1911, se non ricordo male, ebbe la cattedra di letteratura umanistica all'università di Roma, il mondo accademico italiano come ha visto Zabugin in vita e post mortem? Giusto, molto giusto questo. Effettivamente la figura che credo abbia meglio compreso la caratura, il valore, il peso della cultura, della disciplina di studio e della potenza di pensiero di Zabugin è stato forse Giovanni Gentile che ne parla con grande ammirazione, parla di Zabugin in tutti i suoi aspetti, anche se brevemente nelle, come posso dire, nelle brevi frasi di un articolo e questo per me è particolarmente importante, gentile anche se vogliamo contrapposto a un croce che non ha mai stimato particolarmente la cultura russa per usare un eufemismo. Zabugin all'interno del mondo accademico italiano è stato, se vogliamo, stimato in vita, celebrato poi in morte, ma proprio il libro di cui parlavamo prima, la storia del rinascimento cristiano in Italia, nel momento in cui viene recensito, ovviamente postumo, viene strapazzato proprio per le tese di fondo di cui abbiamo parlato prima. Quindi una ammirazione in vita è un'incomprensione in morte da parte del mondo accademico italiano. Non si è colto, secondo Meglia, l'aspetto più innovativo di questo studioso, cioè il fatto che egli venisse da un mondo russo, parleremo dopo di Fleriensky, Fleriensky studioso dell'icona, in cui l'iconografia e l'iconologia in senso proprio filologico era già entrata nella sensibilità comune al tempo, insomma, dell'ultimo zar. E Zabugin che vive contemporaneamente, diciamo, ha la stessa periodo di vita di un personaggio come Abid Warburg, da un certo, no, da un certo da molti punti di vista, lo si potrebbe accostare a questa nuova ondata di interesse iconografico-iconologico che troveremo poi con Panosky, con Gombrich e che già in Emil Mal, no, altro, se vogliamo, contemporaneo di Zabugin, citato da Zabugin, trovava una sponda di interesse. Ecco, diciamo che Zabugin è più, in questo caso, europeo che italiano. Appartiene più a un mondo ampio europeo che non nazionale, italiano, chiuso ancora in quegli aspetti della critica filologica, della critica letterale, che Zabugin dice esplicitamente nell'introduzione al Vergilio, menzognera, cioè insufficiente per comprendere tutti i valori complessi di una civiltà. Ecco, Zabugin è un autore della complessità, non è un autore che semplifica, anzi ci pone davanti ad alcuni nodi, ad alcuni problemi, e non è un autore della settorialità, cioè è una lebra che colpisce anche, se vogliamo, la nostra vita accademica, no, di lavorare spesso in compartimenti stagni, quindi la forza opposta è quella di mettere in comunicazione gli studiosi. Zabugin, come i grandi russi, forse anche, diciamo, con con delle, con una forza che noi non possiamo avere, cercava di tenere questi specialisti tutti insieme in sé. La stessa cosa che vedo in moltissimi studiosi e pensatori russi dell'epoca. Certo, questo è un tratto veramente tipico di quel grande fermento ideale e spirituale che fu l'inizio, la fine dell'Ottocento, l'inizio del Novecento in Russia. Volevo ancora dire una cosa, che accanto a questo atteggiamento che tu hai ben delineato della cultura italiana coeva e immediatamente successiva alla morte di Zabugin, occorre sottolineare che dal 2000, esattamente, se non ricordo male, nel 2000 è uscita la riedizione italiana del Virginio nel rinascimento italiano. Da quell'anno in avanti si sono susseguite una serie di ripubblicazioni, ancora molto parziali rispetto alla vastità dell'opera di Zabugin, ma che testimoniano un interesse non solo da chi l'ha studiato come autore, ma proprio da parte degli specialisti della stessa materia di cui lui si era occupato. Quindi c'è un ritorno di interesse, una riscoperta, proprio da parte degli studiosi di umanesimo e di letteratura italiana e latina antica e anche c'è una ripresa di interesse da parte degli studiosi del pensiero russo. Quindi da più parti è tornato in Italia, anche se ancora in dimensioni non adeguate, a riscoprire, a rivalutare l'opera di questo grande studioso che in Russia continua a essere praticamente sconosciuto. Ma di questo parliamo nella prossima nostra conversazione, non prima di aver ricordato le circostanze della tragica morte di Zabugin. Vuoi farlo tu? Beh sì, ecco, un aspetto interessante di Zabugin è la sua esperienza diretta del mondo, anche nei suoi punti estremi, e la sua passione per l'alpinismo. Zabugin era affetto in maniera congenita da un diabete che gli rendeva sempre più difficile il vedere, soprattutto nei momenti che sono per tutti, insomma, complessi come quelli del crepuscolo, e Zabugin si avventura nel settembre del 1923 nelle Alpi, presso Bolzano, a Solda, e purtroppo cade in un crepaccio. Cade in una sorta di abisso, ecco, quest'uomo chiamava così le alture, come si ama ricordare. Trasportato, ancora diciamo cosciente, seppur malandato, forse per problemi di una emorragia interna muore, ricevuti i conforti religiosi, e termina, come posso dire, in una maniera imprevista e nello stesso tempo così fascinosa per chi la guarda da fuori, la propria esistenza. Ho pensato delle volte a qualcosa di simile come è successo al grande studioso di Barocco, Vino Bergamo, che giovane si era immerso nelle acque ed è stato colpito a morte dalla pinna di uno squalo che deve avergli tranciato una vena. Insomma, cose strane e imprevedibili, morti misteriose e imprevedibili. Ma quella di Zabugin riflette anche l'intera sua esistenza, cioè il desiderio delle vette, perché sono anche le vette del pensiero, degli ampi spazi, degli ampi orizzonti, di uno sguardo che possa in qualche maniera contemplare l'interesse del mondo, vederne i fiumi, le strade da punti isolati. In questo sta anche la sua grandezza. Fu grande la commozione dopo la sua morte, anche quelli che erano i suoi, come posso dire, antipatizzanti, scrissero cose molto lodevoli, insomma, della sua fine, ma queste furono anche le ultime cose, prima che Angelo Tamborra, Augusto Campana, Giuseppe Maria Croce ne riprendessero in mano gli studi. Bene, allora noi ti ringraziamo e annunciamo la prossima conversazione che seguirà a questa e che sarà dedicata invece a Zabugin e la cultura russa e a Zabugin musicologo. Grazie. Grazie a voi.